Wabalabadabia bentornati su No Mamamazzo, bentornati nel rubrica Toys and Unboxing Mi è stato fatto notare in real life che è un po' che non parlo di giocattoli, che non faccio vedere unboxing di giocattoli E probabilmente ho anche saltato qualche giocattolo che ho preso tempo addietro e non ho mostrato Quindi cercherò di recuperare anche questa rubrica, non le darò una cadenza regolare perché è impossibile che ce l'abbia Perché non prendo cose a cadenza regolare e soprattutto perché in questo modo non mi viene l'ansia da prestazione Di dover avere ulteriori scadenze ad altre rubriche che già ho Ma bando alle ciance, oggi sono qui per parlare con voi dell'unico acquisto fatto a Novegro Perché è unico? Perché prima di acquistare altri fumetti devo finirne alcuni Poi ne ho già in arrivo altri, sempre a tema Marvel sto finendo dei fumetti di supereroi E quindi mi sono imposto di aspettare un attimo Poi tra l'altro a breve dovremmo rifare tutta la libreria Magari faremo una live insieme sul sito Viola, su Twitch e insieme sistemeremo la libreria Perché non ho molto spazio e quindi ho preso solo un fantastico giocattolo Qual è questo giocattolo? È questo qui alle mie spalle che ora vi faccio vedere Potreste averlo già notato nel mio ultimo video su Dylan Dog Eccolo qua, questo è Leatherhead signori e signori E mi limito a chiamarlo Leatherhead perché è per questo che io l'ho preso Ma c'è molto di più qui dentro Ovviamente per chi non lo sapesse Leatherhead è un personaggio delle tartarughe ninja Teenage Mutant Ninja Turtles Onestamente non vi so dire se è nato nei fumetti dell'84 Ma sicuramente è stato molto presente nel cartone animato del 1987 Come nemico delle tartarughe ninja Successivamente lo hanno mostrato nel cartone animato del 2002 Nel cartone animato del 2012 Non vi so dire il cartone animato del 2018 perché non l'ho visto Non penso di essere nel target per quel cartone E poi l'hanno già chiuso quindi sorry se ho questa lacuna Fatto sta che è un personaggio ricorrente delle tartarughe ninja Ovviamente c'è anche nei fumetti dell'IDW Che narro ogni weekend insieme a voi Quindi anche lì è un personaggio molto presente È un amico, è un nemico C'è, semplicemente c'è Io credo che segua un po' le alleanze che vuole Specialmente nei fumetti non mi sembra molto pulito come alleato Però è sicuramente una figura molto importante Che ci tenevo ad avere alla mia collezione di giocattoli Dalle tartarughe ninja Che se non avete visto nel video specifico Ve lo metto qua in descrizione Ve lo metto qua nelle schede Così lo andate a recuperare Poi comunque a fine di questo video vi faccio vedere un attimino Come sta questo gioiellino rispetto al resto Questa versione di Leatherhead Non è una versione di Leatherhead normale Diciamo È la versione di Leatherhead di Turtles in Time Che è un videogioco arcade Lo possiamo capire anche da come è pixelato Ecco Quindi questa action figure segue un attimino questo design pixelato Ora devo essere molto onesto con voi A me non importa molto di questa versione Io avrei preso più volentieri la versione classica Quindi la versione dell'87 rifatta ad un'altezza maggiore Peccato che queste versioni siano vendute in coppia In questo caso Leatherhead sarebbe stato venduto in coppia Con lo slash dei cartoni animati Che non è lo slash tipico dell'action figure dell'87 con la bandana nera Ma è quello con la specie di cosa metallica attorno Che non mi piaceva Ma quello sarebbe stato il minore dei mail lì Il problema è che quella versione è esaurita E se andate a recuperarla su Amazon costa uno sfacelo E quindi mi sono detto Compriamo invece questa versione Che in fiera costava anche meno che su Amazon E qua sotto in descrizione vi metterò il link Il sito del negozio, dello stand Dove ho acquistato questo prodotto Perché ci sono tante altre chicche delle tartarughe ninja Che potrebbero interessarvi L'altro motivo per cui ho preso questo Questo fantastico personaggio È che è più alto delle tartarughe ninja Ecco, il motivo per cui io non avevo mai preso Lederhead È che se io avessi recuperato un Lederhead Delle tartarughe ninja dell'87 Sarebbe stato alto come le tartarughe Se non addirittura più basso Quindi ho cercato in ogni modo di recuperare Il Lederhead del 2002 Perché è un po' più alto Ma non lo trovo È abbastanza introvabile E poi onestamente mi sarebbe piaciuto avere Il Lederhead Col cappello Col gilet Con questo stile molto Crocodile Dundee Che c'era negli anni 80 Questo mi risolve il problema Perché è molto, molto più alto Di qualunque altro Personaggio che ho Ma può essere comunque ritenutosi In scala con il resto O almeno lo andremo a scoprire molto presto Ma bando alle ciance Cambiamo la webcam Così vedete subito In primo piano Quello che andrò ad unboxare Allora Eccoci qua In questo primissimo piano Del nostro Lederhead Di Turtles in Time Vediamo Innanzitutto Cosa c'è nella confezione Nella confezione Oltre al personaggio C'è un coltellaccio Molto corto Onestamente io non ricordo bene Come fosse Nel cartone Ma sicuramente è ispirato al videogioco Quindi comunque Sarà stato un'arma del videogioco La coda che poi applicheremo E diverse mani Se notate Adesso quando lo estraiamo Qui ha entrambi i pugni chiusi Pensavo comunque di cambiare Almeno Una zampa Ecco Dal momento che È sigillato In modo che io non riesca Con le sole mani nude Ad aprirlo Mi aiuto Con un taglierino Per tagliare Tutti questi laccetti Ho fatto Senza rovinarlo Sorry Ok Dovremmo esserci riusciti Vediamo 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 se viene fuori Eccolo qua Ah c'è ancora qualcosa Nei pieti Ah i piedi Tra l'altro mi sto rendendo conto Che È vero che io lo volevo Quei vestiti Però mi sto rendendo conto Che comunque È tantissimo vestito Ai jeans Alle scarpe Ecco È una caratteristica peculiare Degli animali Mutati In mutanti Appunto È che non sono vestiti A differenza degli umani Mutati in animali Che invece sono i vestiti Ecco L'Ederet fa un po' eccezione Quanto meno Non ricordo Che nella serie dell'87 Fosse un umano Penso fosse Anche lì Un coccodrillo Vediamo cosa riusciamo A fargli fare Dal punto di vista Delle articolazioni Dato che Questa testa È molto Gobba Non Ah no ecco Qualcosa riesco Riesco un attimino A raddrizzarla La bocca si apre Molto figa Non tantissimo Però Va benissimo così Per quello che Che occorre a me Ecco Le braccia sono articolate Sicuramente Si toglieranno Perché se devo sostituire I pugni Fatemi Sapere Cosa Preferite Ecco Io adesso penso di cambiargli La mano destra Non lo faccio Lo faccio diventare Destrimano Ecco Molto rigido Devo dire Molto rigido Ma D'altronde È un action figure Allora Chiaramente qui cade all'indietro Però Diciamo che stavo già Lo stavo già Strutturando Per bilanciare La coda Che si ficcherà Ah bene Si può ficcare In ogni In ogni dimensione Dato che C'è un Un perno Quindi la coda Poi si potrà Girare Come ve pare Vediamo se c'è Uno No Niente È semplicemente Incastro Ecco questa La coda Di led Red Chiaramente così Cade ancora All'indietro Ma Cerchiamo un attimino Di controbilanciare Il tutto Ecco Io vorrei Proprio Che lui abbia Questa Tipica posa Che aveva Anche Nella Nel giocattolo Originale Degli anni 80 Quindi molto Che poi era anche Un po' il motivo Per cui Era molto Più basso Cioè Era Alto come le tartarughe Perché era Piegato su se stesso Qui ovviamente È talmente grande Che possiamo Permetterci di farlo Senza Che risulti Troppo basso Ma poi ovviamente Vi farò vedere Un confronto Con un personaggio Dalle tartarughe ninja Ora vediamo Se riusciamo Ad abbassare La coda No Più di tanto La coda Non lo sostiene E quindi Facciamo Un altro modo Cerchiamo di capire Se Ovviamente Potrei girare La coda Chiaramente Però Non mi sembra Il caso Un po' brutto Tiriamo fuori L'arma E tiriamo fuori La mano Che dovrebbe essere La più Utile Per poterla Impugnare Così a occhio Mi pare questa Che tra l'altro È una sinistra Gliela mettiamo Già La mettiamo Già in mano Vediamo Sì Decisamente È questa La mano Perfetta Per impugnarlo Andiamo a togliere Giusto? Alla sinistra Sì Andiamo a togliere Questa Molto fragile Io Non lo toglierei Normalmente Però Mi dà proprio L'idea Che potrebbe rompersi Da un momento All'altro Ecco Io non Non intercambierei Troppo le mani Se fossi in voi Però ecco Così C'ha almeno Anche l'arma Bene Adesso ve lo faccio vedere Rispetto a due personaggi Delle tartarughe ninja E poi ve li faccio vedere Tutti assieme Ve lo faccio vedere Rispetto a un personaggio Delle tartarughe ninja Del 2012 E rispetto a un personaggio Delle tartarughe ninja Del 1987 Della versione Mutating Quindi sono un po' più grosse Mi riferisco a Donatello Che è il più alto Delle tartarughe ninja Del 2012 Ovviamente È dei personaggi principali Perché ho solo quelli Ma se è caduta ancora la coda Ma fa niente La sistemeremo dopo Volevo farvi vedere Come stava Come altezza E l'altro personaggio È Razar Della serie Mutating Del 1987 Ovviamente Io prendo Tutti questi personaggi Proprio per Le altezze diverse Quelle del 2012 Hanno un'altezza particolare Per ogni tartaruga Le Mutating Sono più grosse Quindi ho preso Razar Della serie Mutating Come vedete È più grosso Di Donatello Perché se avessi preso La versione Dell'87 Classica Sarebbe stato più basso Addirittura E qui abbiamo Un Leatherhead Che è più grosso Di entrambi Ma comunque Non è Così grosso Da sembrare Un'altra linea Di giocattoli Ecco Di un'altra scala Sembra Semplicemente Più grosso Ovviamente Un coccodrillo È più grosso Di un lupo L'unica eccezione Fatta Per quanto riguarda I mutanti Dell'universo Nelle tartaruga ninja È Rocksteady Perché è un Rinoceronte Questa ho preso La versione Mutating Che è più grossa Ma è giusto Per darvi un'idea Potrei La versione classica È ancora più piccola L'unico è Rocksteady Perché? Perché è un Rinoceronte Ed è più basso Di altri mutanti Ma Questo succede anche Nel cartone Se voi ci fate casa Rocksteady È più basso Di Bebop Rocksteady Che è mutato In un Rinoceronte Resta più basso Di Bebop Che è mutato Da un Da un cinghiale Questo perché? Perché nel cartone Dell'87 Hanno mantenuto Le altezze Che avevano Quando erano Esseri umani Quindi questa potrebbe Che ne so Essere una regola Per gli umani Che vengono trasformati In mutanti Ma come Presumo Non c'è in realtà Una regola È semplicemente Capitato così Anche perché Nella versione Dei fumetti Dell'IDW Vediamo Palesemente Bebop e Rocksteady Che sono delle bestie Enormi Però reggetevi forte Perché presto Arriveranno Tocca e Razor Anche nei fumetti Dell'IDW E loro sì Che saranno Davvero Davvero enormi Dovrebbero essere Più enormi Persino Di Lederhead Nei fumetti Quindi Vedremo un po' Queste nuove proporzioni Ecco Vi ho mostrato Quattro personaggi A caso Adesso Vi mostro Lederhead In mezzo al mucchio Della mia collezione Per vedere Come sta Ragazzi Sono troppo contento Di avere Finalmente Aggiunto Lederhead Dalla mia collezione Come vedete Abbiamo Uno Shredder Prima versione Che in realtà È un bootleg Perché Quello Originale Era distrutto L'ho ricolorato Con i colori Di Tartaruga Ninja 2 Il segretto di use L'ho messo Accanto A Tocca e Razor Versione mutating Poi abbiamo Un Casey Jones E un April April Recuperata Perché da piccolo Avevo la versione Di Tartaruga Ninja 3 Tartals In Time Il film ovviamente Uno Splinter Originale Ma con cintura Gestita da me Perché non trovavo Più l'originale E un bastone Che si trasforma in arco Di un'altra versione Di Splinter Qui abbiamo Se notate Le Tartaruga Ninja Del 2012 Che vi ho già mostrato Nel video dedicato Ma dietro Abbiamo Due Tartaruga Ninja Femminili Mi riferisco A Gennica Che arriverà Presto Sui fumetti Da Lady W Ovviamente Non c'è il giocattolo Di Gennica Ma Se mi seguite Sul gruppo Telegram Saprete Che mio padre Ha trovato Una versione 2012 Di Leonardo Ad un mercatino E allora Dato che io ce l'avevo Ho pensato di Personalizzarla Facendola diventare Gennica Mi è sembrato Duopo Mi è sembrato Corretto Dal momento Che Gennica Prende La mutazione Da una trasfusione Di sangue Di Leonardo E dietro Abbiamo invece Venus de Miro L'altra tartaruga Femmina Apparsa per la prima volta Nel telefilm Del 97 Che presto Tornerà anche Nei fumetti Dall'IDW Poi abbiamo Lo slash Della 87 Che io preferisco Di gran lunga A quello Del Del 2012 Come forma Perché È comunque Diciamo Agile E non è Grosso Come Lo slash Del 2012 E in fondo Abbiamo Metalhead Sempre dall'87 Baxter Stockman Purtroppo Privo di ali Krang In questa versione E Bebop e Rocksteady Versione Mutating O anche Gli originali Volendo Ogni tanto Li cambio Per farli sembrare Più grossi Li ho messi Insieme a Krang Perché c'è stato Un grosso periodo Nelle tartarughe ninja In cui Bebop e Rocksteady Avevano fatto Troppi danni Ed erano insieme A Krang Mentre Shredder Se la spassava Solo con Baxter Stockman E poi Hanno un pochino Alternato Quindi ho preferito Lasciare Shredder Con Tocca e Hazard E Bebop e Rocksteady Con Krang Mentre Slash È esattamente A metà Tra i buoni E i cattivi Così abbiamo Ben 1 2 3 4 5 6 7 Tartarughe Pensavo di mettere Lederet Esattamente Qui Tra Gli amici Mutanimali Ecco potrei metterlo Vicino a Slash Sarebbe la cosa più Corretta Ora sicuramente Questo Slash Vicino a Lederet Potrebbe sembrare Fin troppo grosso Ma se avessi preso Lo Slash Del 2012 Sarebbe stato Comunque alto Così E avrebbe avuto La forma Che tutti conosciamo Quindi preferisco avere Uno Slash Un po' più Snello Che non uno Slash Che sembra grosso Ma è sproporzionatamente Piccolo Rispetto Al resto Sì direi che fa la sua porca figura A me piace Non dispiace affatto È un bel elemento Che si aggiunge È l'ulk Di questa Versione Vi faccio vedere Vi faccio vedere Vi faccio vedere una chicca Su Tocca E lo è Guarderemo più da vicino Magari Shredder E Gennica E Venus Che ho aggiunto Eventualmente Grazie E noi ci vediamo Con il prossimo video Grazie 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 Grazie